La parola d'ordine quest'estate è Fly Flot, perché per tantissimi motivi sono made in Italy, trendy, resistenti e soprattutto offrono il massimo del comfort e del relax. Sì, perché sono le uniche che offrono i quattro punti del benessere totale. Tutte le Fly Flot hanno un'esclusiva suola anti-shock per ammortizzare l'impatto del piede con il suolo, anatomica per aumentare la superficie d'appoggio del piede, automodellante per adattarsi al piede con l'uso, antiscivolo per assicurare la massima sicurezza. Quattro punti del benessere totale che passo dopo passo dai piedi si trasmette a tutto il corpo. Non rinuncere mai alle mie Fly Flot mi regalano talmente tanto comfort, relax e sicurezza. Più che camminare mi sembra di volare e sì, sono proprio un acquisto intelligente. Le Fly Flot hanno tutte tomaia e sottopiede in pelle per assicurare piedi freschi e asciutti sempre. Inoltre sono sottoposte a severi test di flessibilità e durata. Solo con le Fly Flot mi sento a mio agio, libera e comoda in qualsiasi situazione. E poi nella nuova collezione Primavera-Estate ci sono tantissimi modelli da abbinare a qualsiasi tipo di abbigliamento, dal più elegante al più informale. Per chi ama lo stile informale e trendy c'è la nuova linea di scarpe SP3, ovviamente con tutta la comodità Fly Flotte. Linee e colori trendy per ogni gusto ed esigenza, l'ideale per camminare in libertà. Non aspettate un minuto di più, chiamate il numero verde o consultate il sito per trovare il punto vendita Fly Flotte più vicino a voi. Scoprite quanto sono comode le Fly Flotte e non potrete più farne a meno. Fly Flotte, benessere totale dai piedi in su. Prenditi cura di te. Garnier Calvé, così buona che scatena la tua creatività. E con i nuovi top down di Calvé ci prendi ancora più gusto. 40 Maxi Day e non se ne parla più. Ma non vi farà male sto gelato. Guarda che il Maxi Day mica è un gelato, è una carta. Zio, è la carta vacanze della team. Hai 500 minuti di chiamate e 500 messaggi al giorno per se team. Tutti i giorni per un mese. Entra in team e la Maxi Day vacanza è gratis. Bapà? Te San Benedetto, un gran talento naturale. 12 euro. Magari una volta. Su, quant'è? Sono 12 euro, signora. Ho scoperto. È una Kenneth Camera, vero? Vinte qua, non ci casco mica. Alla 4 c'è un attore. C'è un recene camera? È tutto visto. Alla Cop, sulla convenienza non scherziamo. Molto divertente. Il bagno schiuma marchio Cop, ad esempio, ha 90 centesimi la confezione. Basta con gli scherzi. Se quest'estate vuoi portarti dietro solo il peso dei bagagli, sei sempre in tempo. Con Special K, in due settimane, recuperi la linea e torni in forma. Goditi tutto il gusto dell'estate. Eccola, quasi presa. No! È chiuso dentro. Oggi con Fastweb parli con i telefoni di casa e tutti i cellulari a costo zero. E se ti avani ora hai tutto Fastweb per tre mesi a zero. Fastweb, parla a zero. Togliti il pensiero. Visita, vaccinazione, lecca-lecca. 120 euro con Mastercard. Il turno di tuo fratello non ha prezzo. Ci sono cose che non si possono comprare. Per tutto il resto c'è Mastercard. Anche per le tue visite specialistiche. Gli affettuosi di casa Modena. Oh, caro. Con la nuova confezione Apri e Chiudi, gli affettuosi sono sempre freschi. Gli affettuosi di casa Modena. C'è sempre più gusto. Come si chiama quando le nuvole si addensano, diventano nere, hanno un potere distruttivo da radere al suolo una megalopoli? L'URAGÀ! Summer Collection. CD più ricaricabile, più 500 messaggi gratis. a soli 9,99 euro da Wind. Venite, gente, date un'occhiata. Venite a scoprire il lato Coca-Cola della vita. Un posto dove quello che conta è ballare, non saper ballare. Un posto dove non è mai, mai troppo tardi. Dove diamo una mano alla fortuna. Dove l'impossibile diventa possibile. Allora, ti va di entrare? Signori, mettete in alto le mani. Su le mani, su le mani, su, 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 su. Cultura moderna. Ciao Gerardo, ciao Gerardo. Ma che gran novità, tutto splendido. Talentuosi pronti a tutto per vincere ogni giorno. Acriviamo la cabina. 500.000 euro. Con il Gabibola, simpatica Giuliana, la bella Lidì e la bestia Teoma Mucari. Cultura moderna, un programma di Antonio Ricci. Tra poco su Canale 5. Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d'Italia, ti aspetta con attrazioni per tutti i gusti. Lasciati affascinare da Niagara, un enorme tuffo che scatena un'onda lunga ben 40 metri. Per godere il meglio di Mirabilandia, scopri la super offerta Mirabilandia più hotel. Per due giorni a Mirabilandia e una notte in hotel, spendi al massimo 56 euro. Visita il sito o chiamalo 0544 56 11 56. Mirabilandia, vivi il divertimento.